Oggi ci troviamo all'interno della bellissima spa del Grand Hotel Ambasciatori, qua nel Paese Termale e accanto a me c'è un grandissimo personaggio che è qua non solo per rilassarsi ma perché sta lavorando a un nuovo progetto che adesso ci svelerà già da Robin che è la cosplayer più famosa per quello che riguarda il panorama nazionale ma non solo anche se adesso si è reinventata, credo sia la terminologia giusta, musicista e cantante e è qua, credo proprio per questo, Giada, che onore e che piacere raccontaci che cosa stai facendo in accappatoio, in costume e con qualche goccia d'acqua legittima Grazie mille, innanzitutto sono contentissima di essere qua e diciamo che sto unendo un po' l'utile al dilettevole ovvero sto cercando di unire la mia musica con il relax di questa location pazzesca e sono qua per girare un video musicale di una canzone che uscirà a breve, credo entro un mese e anche meno e la canzone si chiama Meditation, ovvero meditazione e l'argomento è proprio quello della vita di tutti i giorni frenetica, caotica in cui diciamo ognuno di noi ogni tanto dovrebbe fermarsi, riflettere un pochino, calmare la mente e anche il corpo per riequilibrare anche lo spirito perché io credo che comunque l'essere umano sia fatto non solo di carne e ossa quindi corpo, mente ma anche spirito e secondo me Chianciano Terme in questo è uno dei luoghi più importanti per riequilibrare la salute delle persone Certo, Giada la domanda ci sorge spontanea insomma per 15 anni sei stata la cosplayer di riferimento lo possiamo dire a livello nazionale, la prima che ne ha fatto forse anche della passione un vero e proprio lavoro in ambito professionale e professionistico dal periodo Covid però è cambiato tutto è come se Leo Messi da giocatore di calcio andasse a giocare a tennis perdonami questo esempio, un po' proprio per far capire magari anche i nostri telespettatori nel tuo ambiente eri davvero una superstar e lo sei tuttora perché comunque sia viene ricordata anche per questo, però da un anno e mezzo circa c'è una Giada Robin completamente diversa Esatto, allora io credo di essere rimasta la stessa e questo credo sia uno dei miei punti di forza di cose ne ho fatte tante nella vita e per me fare la cosplay per 15 anni è iniziata come una passione e poi è diventato un lavoro, una cosa incredibile perché comunque vestire i panni dei propri personaggi preferiti andare alle fiere del fumetto, io sono una ragazza diciamo sempre ho avuto una passione per i fumetti videogiochi, una ragazza nerd che ha avuto un po' la sua rivincita diciamo nei confronti di quei ragazzi che a scuola un po' la bullizzavano e diciamo sono riuscita ad avere quel sogno di avere un po' i superpoteri delle eroine dei fumetti e quindi cambiare da un personaggio all'altro e mi sono divertita tantissimo quindi è stato un lavoro che mi ha insegnato tantissime cose, che mi ha fatto viaggiare perché oltre all'Italia ho viaggiato anche il mondo, Giappone, America, Stati Uniti, è stato bellissimo e poi però la pandemia quando tutto si è fermato mi ha fatto riflettere un po' su quella che poteva essere la mia strada futura e quindi ho riscoperto questa bellezza per la musica che poi era una passione che mi tenevo dentro da quando ero bambina insieme ai fumetti e quindi io ho detto la tengo lì nascosta in un cassetto, voglio riniziare questo percorso musicale che bella cosa, che bella cosa e anche complimenti perché comunque mettersi in discussione quando sei già in una comfort zone, volevo dire in un posto dove sei assolutamente famosa, apprezzata e seguita penso che meriti un applauso grandissimo concedici un'ultima domanda, già da poi ti liberiamo perché qua sei principalmente per lavoro e noi stiamo abusando anche della tua gentilezza e della tua disponibilità ce la farai a fare un giro per le nostre belle terre di Siena, la Val d'Orcia piuttosto che la Val di Chiana, Sienese, Aretina un bicchiere di vino a Montepulciano, un po' di formaggio, il famoso pecorino di Pienza hai qualcosa tra i tanti impegni, riusciamo a vedere qualcosina qua in zona? Assolutamente, allora per me è la prima volta qua a Chianciano Terme e anche qua in zona sono onesta da Livornese, ho girato molto la Toscana ma mi mancano ancora queste zone assolutamente domani mi piacerebbe appunto scoprire anche il parco dell'Acqua Santa le terme sensoriali e poi anche voglio vedere la mitica location del gladiatore è giusto, allora buon divertimento, buon relax, buon lavoro e aspettiamo l'uscita del nuovo singolo che presumibilmente dovrebbe essere primi di maggio diciamo per i nostri aspettatori sì, ultimi di aprile, primi di maggio, vediamo un po' cosa riusciamo a fare però siamo vicini ecco, creiamo hype grazie Jada, grazie mille